I laboratori Roxxon. È qui che la ricerca sul NuForm ha avuto inizio. Il telefono di Finn è lì dentro. E ora so anche come entrare. Scudo elettrificato nel condotto. Cosa non è? Scudo elettrificato. Ok, ora non mi resta che entrare. Se posso ricaricarlo, so se magari posso anche prosciugarlo. L'assorbimento ha appuso il generatore. Non pensavo avrebbe funzionato. E sono dentro. E rompere in un laboratorio pieno zeppo di guardie armate. Decisamente non è il solito Natale. Dovrei essere a casa a dormire, a giocare a un sacco di videogiochi e rimpinzarmi di biscotti fino a scoppiare. E invece... Dove si va? Il rilevatore ha localizzato il telefono a profondità. Oh oh. È stato rilevato un intruder nel sistema di scarico. Sono underground, uccideteli. Spider-Man e Thinkerad ci servono vivi. Ricevuto. In caso di problemi... Cosa ridi? Caspita Miles. Per essere così sminzo. Spicchi forte. Zio Aaron. Tu sei i Prowler? Papà aveva un intero file su di te. Lo so. E immagino che avrai molte domande. Ma prima dobbiamo uscire da qui. Hai scelto il posto sbagliato in cui entrare. Non intendo andarmene così a mani vuote. Senti. Io ho lavorato per quelli della Robson. Ed è gente poco raccomandabile. Se ci trovassero qui... Allora aiutami. E' stardo come tuo padre. E va bene. Ma faremo a modo mio. So come accedere ai terminali di sicurezza. Ti guiderò da lì. Vine a distanza. Usale quando sei nei guai. Non farti scoprire. Vedi il condotto con il laser? Come hai fatto? Ho già lavorato. C'è un'idea di simili. Concentrami. È l'occasione per provare le mine a distanza. Che succede alle telecamere? Un altro blackout? No, quello era darle. Rai no ha distrutto un'intera centrale elettrica. Potrebbe interessare più di un quartiere. Cosa c'è, in preciso? Un telefono. A giudicare dal segnale dovrebbe trovarsi molto più in passo. Il punto più basso dell'edificio è la base del reattore. Ora so dov'è. Dovrebbe esserci un condotto nella stanza. Porta al laboratorio e al reattore. Il reattore del nuvo? Stando ai progetti, sì. Ehi, dov'è il nuformo che ho chiesto? Eh, cerchiamo di produrlo, ma Mason non ha lasciato appunti. E? Beh, ho saputo che una capsula di nuforma è sopravvissuta al disguido del ponte. Ecco, se avessimo quella... Se l'avessi, te l'avrei data. Non credi? Certo, signor Krieger. Dico solamente che... Senza quella capsula non potremmo rispettare le scadenze. Io... Tutte le mie non poche risorse sono impegnate nella ricerca della capsula. Tuttavia, adesso, apprezzerei che tu tornassi in laboratorio per fare il tuo lavoro. Krieger ha poco tempo. Di chi è il telefono che stai cercando? Di Tinker. Posso sapere perché mi stai pedinando? Eh, per proteggerti. Dovresti essere lusingato. Sono tornato in attività solo per te. Non riesco a credere che mio zio sia Prowler. E io non riesco a credere che mio nipote rischi il collo per un telefono. Andiamo avanti. Sei vicino al prototipo del reattore. Togli di mezzo i soldati. Serve un'altra fattuglia. Uomo a terra! Uno dei nostri! Non abbassate la... Un altro trionfo per Spider-Man! Nessuno. L'area è sicura. Il settore sembra a figuro. Fermi. Ho sentito qualcosa. Prendi! Ottimo lavoro. Grazie. Il silo si trova oltre quella barriera. Usa il terminale per aprire. Aspetta. Ci sono altri laboratori in città. E un reattore nu form in ciascuno. Quella schifezza intossicato Rick. Vanno fermati. Concentrati. Prendi il telefono e vanno. Il reattore è giù. Alimenta l'intera base. Il telefono è lì sotto. Devo trovare un modo per superare quella ventola. E anche quei tipi. Te l'ho già detto. Non farti scoprire. L'interground è solo un mucchio di moccosi. Occhio. Forse c'è un problema. Ho sentito un rumore. Il proprio occhio non la rompia. Ehi! C'è qualcuno qui! Non è la tua giornata. Scusa. Ciao, Genki. Volevo solo sapere se stai bene. Se sei ancora... Allora, grazie. Mi sta dando una mano anche mio zio. Chi? Il tizio della metro? Sì. E ho scoperto che... Anche Prowler. Allora. La storia. Aspetta. Quel Prowler? Il criminale con il costume viola? Ex-criminale. Non siamo adiati. È solo questa volta. Il tuo zio è il Prowler. Che notizia. Una vera... Bomba. Devo andare, Genki. Ci sentiamo più tardi. Comincio la ronda. Sogni d'oro. le stelle all'estate. Fa in fretta. Sto disattivando allarvi e telecamere per impedire che ne arrivino altri. Taglia i cavi sopra la vento. Fermate. Grazie. Ok. Flamero, punti della morte. Fantastico. La batteria è scarica. Non esplodere. Sto disattivando. Il nucleo va svuotato in due. Due azioni. Il comando qui. Io confermo da là. È il primo passo per liberarci del Luform. Non ti dispiace? Distruggere la tua scoperta. Vedi come sono messo. Devo proteggere il mondo. Pronto? Pronto. Modalità manuale tra tre, due. Vena. Io non c'entro. Sabottaggio industriale. Davvero. Nessuno piangerà a qualche malato nei quartieri poveri o un ingegnere morto. È un sacrificio in nome degli amari. No! No, no, no! Posso fermarlo? No! Posso fermarlo? No! No! Pink, no! No! Pink! Non guardare! C'è un altro intruso. Trovato. Rick voleva salvare delle vite. E Krieger l'ha ucciso. Finirò ciò che hanno iniziato. Zio Aaron, puoi sbloccare lo scudo del reattore da dove sei? Perché? Hai il teleco. Scappa! Quel reattore ha ucciso un mio amico. Deve essere speltro. Per sempre. Mi devi aiutare, zio. Per favore. Zio Aaron? Ok. Dietro. Grazie. Come incineratore all'esterno! Ma... Più grande! Che cosa fai? Vai! Stai bene? Deve andarsene da lì. Puoi muoverti. Sì. Scappa lungo il corridoio. Mi sento... veramente a pezzi. È come se... mi facessi... a pezzi. Non riesco... a contenerla! Alex, rispondi ragazzo. Stai bene? Mi sento come se fosse caduto da un aereo. Ma almeno il reattore è sistemato. Sei quasi fuori. Avevo bisogno di quel telefono. E ora come faccio? Sveglia ragazzo. La Robson sarà lì a momenti. Arrenditi! La tua corsa finisce qui! Hanno l'ordine di catturarti. Cosa voglio? Pianti. Interroganti. Non lo so è nonissimo. Devi solo scappare. L'ordine di catturare Spider-Man! Sulla testa! È in area! Cagliamide! Forza! Mike! Sono stato spulso dal sistema. Dammi un attimo. Ti riluppo i diritti. Fatto! Neutralizzo Spider-Man! l'hai sentita? Forza! Prova a rialzarmi! Un salto confermato! Andiamo! Prima che ne arrivino altri! Che sistema di occupamento! Ma come... vai! Vai! Come vai a seconda! Io a destra! Non ti mette male, Miles! Molto male! Tranquillo! Non possiamo farcela! Le guardie sono in meno! I diriguai inizieranno quando saremo fuori da qui! Ora Cricker ci vuole morti! Non esistere! Non esistere! Le guardie sono in meno! Il Signore dell'Aranca! L'importanza! Non capisca! Occhio! Ok, il treno è quasi arrivato. Preparati! Devi restare nascosto. Non fidarti di nessuno e non toglierti la maschera. Aspetta che la Roxxon cambii obiettivo. Non posso stare fermo. Devo ancora trovare Thing. La tua amica è Tinkerhead. Ecco perché sei tanto coinvolto. Non è solo questo. Ora... io devo proteggere New York. Usa Finn. Dille che vuoi unirti all'Underground. Hai detto di tenere la maschera? Non devi dirle che sei Spider-Man. Avvicinala come amico. È troppo intelligente. Ah, non credere. Siamo più stupi quando teniamo a qualcosa. Come lo sei tu proprio ora. E se le dicessi chi sono? Io l'ho detto a tuo padre. Credevo mi appoggiasse. Lo speravo. Era mio fratello. Invece mi ha tagliato fuori. Se me ne fossi stato zitto, forse avrei ancora una famiglia. Sai che cosa devi fare. Sai che cosa devi fare. Sai che cosa devi fare.